Buona domenica a tutti, benvenuti nonostante il cattivo tempo, spero che abbiamo una buona giornata oggi almeno per quanto riguarda lo svolgimento delle attività. Io vi porto il saluto del Presidente Pitella, sono il dirigente dell'Ufficio Geologico della Regione Basilicata, abbiamo contribuito all'organizzazione di questa giornata perché ci crediamo nel valore della cultura, della conservazione e della tutela dell'acqua. Oggi quindi coglieremo varie declinazioni del tema dell'acqua, come ha detto il Sindaco, l'acqua industria, come materia prima appunto nello stabilimento della San Benedetto, acqua energia, acqua gioco. E questo è un modo allegro, gioioso di far transitare alle nuove generazioni il tema dell'importanza dell'acqua. Per vincere la staffetta ragazzi non dovete far cadere neanche una boccia d'acqua oggi in palestra. La Regione Basilicata si identifica con l'acqua, è terra d'acqua, vero è che nel suo stemma ci sono quattro onde di azzurro che rappresentano i fiumi principali della Basilicata. La Basilicata porta il tema dell'acqua ad Expo e anche questa giornata sarà portata il 9 maggio a Milano come risultato speriamo molto positivo di questa politica di valorizzazione del bene acqua. Vi ringrazio di nuovo e vi auguro buona giornata. Viva l'acqua! Grazie!